ma salve siamo qui per l'aggiornamento di met in due ma cosa più importante da dire quality of life la base di questo aggiornamento ci hanno dato un po retta allora prima cosa tenaglie a pacchi tenaglie del tempo a pacchi commerci anti scam quindi possiamo arrivare a dare quasi un buon in kk possiamo accumulare invece che 999 3000 won possiamo spostare in quest'altra mappa per vedere una piccola cosa quindi in bosco rosso hanno aggiunto un ponte che vi permette di arrivare prima in fondo dai mob stiamo in goccia praticamente quindi hanno cambiato e sistemato un po i livelli bassi con dinamiche migliori se volete in descrizione ci sarà il necessario per sapere tutto i pet non non andranno più via se gli chiamate una volta cambiando mappa resteranno con voi anche le missioni di caccia sono cambiate andate da un'occhiata ma soprattutto grazie che in forge grazie a voi per aver guardato questo video alla prossima